Ospite della puntata di questa settimana del Sassone Nostagno è stato Don Ludovico Gadaleta, rosminiano, sacerdote, direttore dell'archivio storico dell'Istituto della Carità che opera all'interno del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa. Don Ludovico, che cosa può dire Antonio Rosmini, che è vissuto nella prima metà dell'Ottocento all'uomo d'oggi, qual è la sua attualità? Direi che il pensiero di Rosmini, pur nelle sue tante sfaccettature, si riduce a una sola massima che ha delle grandi implicazioni da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista sociale, politico e proprio attuale veramente, che è quella di riconoscere l'essere nel suo ordine. Quindi tanto io ho una realtà quanto ne ho un'altra, ma io devo collocarle nel loro rispettivo ordine, evitando di attribuire ad alcuni diritti o doveri che non hanno e al contrario riconoscere ad altri quei diritti o doveri che hanno. Banalmente non posso mettere un animale sopra un uomo, non posso mettere una cosa materiale sopra una cosa diciamo che riguarda la dignità della persona, quindi c'è una gerarchia nelle cose, nella realtà, tanto nelle realtà spirituali quanto nelle realtà sociali e nelle realtà politiche. Al centro di tutto naturalmente c'è la persona, che non è l'uomo in sé, ma è la persona, cioè la persona nella sua piena dignità, nel fatto che questa persona riceve da Dio quella scintilla, chiamiamola così, che la unisce col divino e che la rende capace di aprirsi al divino. Ecco, lì l'uomo cessa di essere solo uomo e creatura e diventa persona, diventa figlio di Dio.